Sì, ho avuto una produzione molto forte perché ho collaborato con produttori c'è stato da una parte Alessandro Gemelli che è ormai un amico oltre che un produttore che ha dato un linguaggio diverso alla mia comunicazione dando una produzione molto attuale, molto contemporanea ma sempre comunque molto particolare in più insomma il messaggio di Antonio Filippelli che ho avuto il piacere di collaborarci in passato e devo dire che è stato un connubio molto interessante che ha dato queste sonorità molto fresche, molto nuove quindi insomma sono molto soddisfatto di questa nuova veste dal punto di vista musicale Allora, sicuramente l'E-Store è proprio il modo di avere un contatto diretto con il tuo pubblico proprio sentirlo con mano, abbracciarlo, baciarlo e la cosa bella dell'E-Store è appunto renderti conto di quanto è bello il tuo lavoro di quante persone condividono quello che fai e sognano grazie a quello che fai quindi li vedi proprio con i tuoi occhi e quindi insomma sono pronto a ricominciare questo viaggio in giro per l'Italia a vedere quante persone e quali persone insomma condividono il mio sogno, quello di fare musica Io infatti condivido molto, cioè mi piace molto portare avanti questa concezione dell'unplugged del live acustico anche davanti a poche persone perché appunto credo che è come se l'artista si mette a nudo si mette a nudo in quel momento senza appunto proprio scarno la musica dal punto di vista, ecco, chitarra e voce Spero di avere altre occasioni insomma di portare questo tipo di live avanti e insomma avere questo, è un po' avere più confidenza con le persone avere questo momento intimo con le persone forse